Buongiorno, stiamo uscendo da un incubo, purtroppo abbiamo una situazione economica che sarà lacrime e sangue per diverso tempo, direi anni, ma altrettanto sicuramente andiamo a letto a dormire con l'animo un po' sollevato, sapendo che i nostri sacrifici avranno un esito, avranno un motivo, avranno una ragione e risolveranno qualcosa. L'origine di tutta questa storia la conosciamo anche troppo, ve victis, no, lasciamolo perdere. Un uomo come quello è più colpito dalla indifferenza che dall'ostracismo. Purtroppo ci ha portato a questa situazione non da solo, ma i suoi accolliti, i suoi leccapiedi saranno puniti da loro in altre maniere, allontanati dalla rest pubblica, filipesi, osteggiati e neppure graditi da quella sempre più scarsa, sempre più sparuta numero di Pdl. C'è la fuga, c'è l'abbandono dei ratti, delle pantegane dalla nave Pdl, se lo meritava. Lui non aveva dei suggeritori, non aveva dei deputati, non aveva dei fedeli, aveva semplicemente dei comprati, e quando uno compra deve anche sapere che c'è qualcun altro che poi magari offre di più. Ecco il suo concetto del tradimento. Lui le aveva comprate e le riteneva cose sue, cose proprie. Questa gente ha adoperato un attimo il cervello e soltanto adoperando il cervello si poteva affrancarsi ed allontanarsi da questa schiavitù e da questa servitù. Sono rimasti alcuni, alcuni perché non hanno più alcuna possibilità alternativa. Ditemi voi, ma un capezzone, cosa potrà fare? Portavoce di chi? Ed altri. E' un cicchitto con i suoi precedenti storici, ex socialista, ex epiduista. E Gasparri che si è esposto in maniera vergognosa anche se, devo dire, negli ultimi tempi ha un pochettino, come dire, abbandonato e apparso sempre meno perché chiaramente aveva capito insieme a tantissimi altri. E poi tutta questa pletora di quote rosa che sono in Parlamento senza merito alcuno, merito alcuno politico, merito forse di altra natura, ma oggi il bunga bunga è stato abolito. E poi, ultimo, ma non meno importante, la figura patetica, la figura sconfitta, la figura rassegnata di un uomo che credeva di essere il più potente del mondo, che ha preso in giro gli italiani il riso di consessi europei e mondiali, si ritrova con un pugno di mosche. Anche qui dovrà mettere in conto già che il suo futuro non avrà più delle possibilità alternative di scansare processi, non ci saranno più dei legittimi impedimenti e lui dovrà passare le sue settimane, i suoi mesi a venire, a dare spiegazioni, a rispondere tra una procura della Repubblica e l'altra. dispiace in fondo a fondo, ma se l'è cercata. Ai cari amici che hanno in qualche modo sopportato, che hanno creduto che comunque ci fosse uno sfocio di tal genere, di una faccenda, i miei auguri e i miei ringraziamenti. Arrivederci.